Ogni diritto è frutto di una conquista del pensiero, di una lotta per ottenere un bene. Il diritto alla salute non è un'eccezione alla regola. La sua consacrazione in documenti importanti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo alla Costituzione italiana è un passo avanti fondamentale nell'affermazione dei diritti sociali. Realizzare e proteggere il diritto alla salute non è però possibile senza l'impegno costante di tutti, rivolto a difenderlo, per rendere effettivo quanto è sancito. Il diritto alla salute è un diritto umano fondamentale, indispensabile per l'esercizio di altri diritti fondamentali. Per molti milioni di esseri umani non è tuttora garantito, non è minimamente fruibile, anche se oggi abbiamo collettivamente i mezzi per provvedere. Non dobbiamo pensare soltanto ai paesi più poveri del mondo quando formuliamo questo giudizio. Paesi industrialmente avanzati presentano più di una criticità a questo riguardo. La pandemia ha messo in luce i fallimenti nella tutela del diritto alla salute, soprattutto in relazione alle fasce più fragili della popolazione. Questo dato riflette una considerazione più generale. Infatti il disagio economico-sociale e la povertà minano la salute anche in paesi come il nostro, che pure dispongono di un sistema sanitario che offre accesso universale alle cure. Nel tempo che trascorreremo insieme vedremo come il diritto alla salute si è sviluppato e quali sono i suoi contorni attuali, quali problemi giuridici e in ultima analisi politici pone la sua realizzazione. Concentriamoci sulle domande di fondo. Come si è affermato il diritto alla salute? Quale protezione gode attualmente? E quali sono le sfide più impegnative per il futuro? Come altri diritti sociali, si pensi all'istruzione alla sicurezza sociale, il diritto alla salute si afferma nel ventesimo secolo e ottiene il suo primo riconoscimento in sede internazionale nella dichiarazione universale dei diritti umani promossa dalle Nazioni Unite nel 1948. La dichiarazione, nel tutelare alcuni diritti sociali, supera il modello liberale classico, all'epoca ormai sconfessato dopo la tragedia di due guerre mondiali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, istituita nel 1946 come Agenzia delle Nazioni Unite e l'ente internazionale che ha per missione il raggiungimento da parte della popolazione del pianeta del livello più alto sostenibile di salute. La costituzione dell'OMS definisce la salute come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale. La salute non è quindi semplicemente l'assenza di malattia o di infermità. Si tratta di uno snodo essenziale del discorso perché la salute non è solo questione di medicine e di medici. Le prospettive di vita di ognuno di noi e di intere comunità dipendono da molteplici fattori, come è noto a chi studia le determinanti della salute. In Italia l'articolo 32 della Costituzione proclama il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della dignità umana. Salute individuale e salute collettiva sono due facce della stessa medaglia. La nostra stessa Costituzione biologica rende impossibile separare il bene individuale dal bene collettivo e le malattie trasmissibili sono un richiamo drammatico a questa semplice verità. La Costituzione italiana ha voluto puntualizzare che il diritto alla salute nella sua dimensione collettiva può comportare obblighi imposti al singolo. Così la Corte Costituzionale nel 2018 ha chiarito la portata dell'obbligo vaccinale e le relative condizioni a cui esso è ammissibile. Tuttavia il trattamento medico ha come regola il consenso informato del paziente e il rispetto della sua autonomia come affermano documenti internazionali e la stessa legge 219 del 2017. L'autonomia del paziente può comportare da parte di quest'ultimo anche il rifiuto di trattamenti sanitari indispensabili per il mantenimento in vita. Assume così importanza decisiva il principio del consenso informato che regola parimenti la sperimentazione medica. Sia chiaro quando ci riferiamo alla salute come diritto pensiamo alla garanzia delle prestazioni sanitarie. Al diritto corrisponde l'obbligo che implica prestazioni sanitarie a favore della persona. Salute e malattia sono tra le preoccupazioni più profonde dell'essere umano. Tuttavia la salute molto a lungo non è stata pensata come un diritto che le istituzioni dovessero garantire e realizzare con azioni positive. Certo sul piano storico le istituzioni pubbliche non sono mai state completamente assenti dalla scena. Nell'Italia liberale si distribuiva il chilino di stato prodotto qui a Torino per combattere la malaria e in dieci anni dal 1895 al 1905 il numero dei decessi per questa malattia si dimezzò. Molto a lungo però la tutela della salute da parte delle istituzioni pubbliche è stata affrontata in termini di sicurezza pubblica, di ordine pubblico. Bisogna attendere lo sviluppo dei primi elementi dello stato sociale come l'assicurazione contro gli infortuni per passare a un altro ordine di idee, un ordine di idee in cui la salute dei cittadini diviene finalmente oggetto di politiche pubbliche intese a assicurare un diritto per l'appunto. I dibattiti alla costituente mettono in luce le enormi difficoltà del compito che si delineava, prevalse però in quei dibattiti la visione sociale che riconosceva il diritto alla salute come un diritto fondamentale. Si trattava di restituire la salute agli italiani e consideriamo che all'epoca per milioni di italiani questo diritto non era affatto garantito. Da allora molto è cambiato, in Italia è stato tagliato un traguardo fondamentale con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978 e anche il quadro internazionale si è modificato con l'integrazione europea e il graduale intervento dell'Unione Europea nel campo della tutela della salute, un settore in cui svolge compiti di coordinamento e di supporto dell'azione degli Stati membri. Prima di esaminare ulteriormente la situazione relativa al nostro Paese, vediamo come l'esperienza italiana in materia di diritto alla salute si inserisce nel quadro internazionale. A livello internazionale l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ho già ricordato, svolge vari compiti. L'OMS possiede funzioni normative, compresa l'elaborazione di convenzioni e accordi internazionali, regolamenti, standard e raccomandazioni non vincolanti. L'OMS dirige e coordina specifici programmi, tra cui programmi dedicati a singole malattie. Possiede funzioni di ricerca, di condivisione delle conoscenze e di cooperazione tecnica, rivolta anche all'eradicazione della malattia e di intervento nelle emergenze. L'OMS cura la promozione della copertura sanitaria universale, un obiettivo che l'Italia ha in buona misura raggiunto e svolge studi su temi e ricerche di interesse internazionale, come quelli riguardanti l'insorgere di nuove malattie. Si avvale a tal fine di circa 7.000 collaboratori in tutto il mondo. L'OMS ha lanciato l'iniziativa COVAX, che ha iniziato a portare la copertura vaccinale a 92 Paesi più poveri del mondo, un'iniziativa che però rischia di non essere sufficiente a coprire il fabbisogno nei tempi dovuti. Anche l'Unione Europea si occupa della tutela della salute, ma in un ambito ben più limitato. L'Unione Europea nasce dalle istituzioni create nel 1957 a fine di realizzare il mercato interno. Persegue inizialmente finalità esclusivamente legate all'integrazione economica. Pertanto nella versione originale del trattato, la tutela della salute appariva unicamente come limite invocabile dagli Stati rispetto ai diritti e alle libertà garantite dai trattati ai cittadini e alle imprese, come il diritto di libera circolazione. Questo approccio limitato alla tutela della salute prevale tuttora in ambito internazionale nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La tutela della salute in quel quadro può essere invocata dagli Stati unicamente come limite alla libertà di commercio garantita dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ma questa organizzazione per l'appunto non è stata stabilita per realizzare il diritto alla salute. Qui abbiamo davvero un problema centrale di governo globale e di coordinamento delle decisioni da prendere a livello mondiale da parte della comunità internazionale. L'Organizzazione Mondiale del Commercio ha un compito settoriale e lo svolge, tra l'altro proteggendo la proprietà intellettuale nel quadro di specifici accordi. Ma nel caso di una pandemia globale siamo in presenza di uno di quei problemi senza passaporto che possono essere affrontati unicamente lavorando su una risposta globale e complessiva all'emergenza. Per questa ragione sospendere l'efficacia dei brevetti sui vaccini o prevedere un regime di licenze obbligatorie può essere giustificato. La corsa per battere il virus, come è stato detto, non può essere una corsa con pochi vincitori. La stessa amministrazione americana sta considerando le ipotesi che ora ha ricordato, anche se le resistenze sono notevoli. In Europa la tutela della salute in generale è tuttora competenza precipua ed esclusiva degli Stati membri. L'Unione può agire a supporto delle politiche sviluppate dagli Stati. È toccato ai giudici europei promuovere le prime decisioni che hanno dato maggiore rilievo alla tutela della salute anche nell'Unione. La giurisprudenza dell'Unione, che ha incoraggiato questi sviluppi, ha stabilito dapprima il diritto dei lavoratori e dei loro familiari ad avere accesso alle prestazioni sanitarie nel Paese dove si realizzava la prestazione di lavoro. La mancata copertura sanitaria avrebbe infatti costituito un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori nel mercato comune. Successivamente si è riconosciuto il diritto del cittadino di uno Stato membro di procurarsi le necessarie cure anche in un altro Stato dell'Unione e si è così garantita la mobilità trasfrontaliera dei pazienti. Le competenze dell'Unione nel campo della regolazione dei titoli di studio e delle rispettive professioni vede l'intervento dell'Unione europea nello stabilire l'accesso, i requisiti per l'accesso agli studi di medicina e di vetrinaria. Ed è stata l'Unione europea a richiamare l'Italia all'obbligo di pagare una borsa ai medici specializzanti, richiamo a cui l'Italia ha inopinatamente risposto fino a tempi recenti, limitando l'accesso alle specializzazioni. Infine, la regolazione delle medicine e dei dispositivi medici, della donazione del sangue, di organi, di tessuti umani è ormai retta da norme europee. Si tratta infatti di beni che devono poter circolare nell'Unione in condizioni di sicurezza per la salute umana. La garanzia del diritto alla salute è inclusa nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 e l'Unione è impegnata a perseguire un elevato livello di protezione della salute umana nell'esercizio delle proprie competenze. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie è una delle istituzioni europee importanti che controlla l'andamento di 52 malattie infettive. La Commissione europea ha oggi un commissario alla salute e alla sicurezza alimentare. Tuttavia, per quanto molto sia stato fatto, in base ai trattati, l'Unione europea non ha responsabilità primaria quanto l'organizzazione dei servizi della salute per i cittadini europei. Il sistema sanitario nazionale istituito dalla legge 833 del 1978 segna un punto di svolta nella realizzazione del diritto alla salute in Italia. Il Servizio sanitario nazionale, affermando che la Repubblica tutela la salute senza distinzioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurano l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio, garantisce per la prima volta a tutti l'accesso a prestazioni sanitarie. Si tratta di dichiarazioni importantissime. Viene affermato chiaramente che il servizio sanitario nazionale è un bene di tutta la collettività. È infatti il più importante bene comune degli italiani insieme all'istruzione scolastica. L'accento sulla prevenzione è proprio di un sistema pubblico che tutela la salute secondo logiche diverse rispetto a quelle proprie di servizi sanitari erogati da privati. Il Servizio sanitario nazionale ha tagliato traguardi importantissimi nella tutela della salute degli italiani. L'aspettativa di vita alla nascita degli italiani è tra le più alte al mondo e il Servizio sanitario italiano eroga cure di elevata qualità alla popolazione pur tra crescenti difficoltà. Ma qual è allora il suo stato di salute? Guardiamo le tendenze di fondo. Per citare un solo dato saliente, il sistema sanitario nazionale dal 2010 al 2016 ha perso oltre 40.000 unità di personale dipendente, più del 6% del totale. La spesa per dipendenti si è ridotta di 2,4 miliardi di euro. È stata la principale voce su cui si è esercitato il contenimento della spesa pubblica. In anni recenti il 9,5% della popolazione dichiara di aver rinunciato alle cure per le liste di attese, costi legati al super ticket ora abolito. D'altra parte, già la riforma del titolo quinto della Costituzione nel 2001 introduceva elementi di squilibrio nel quadro precedente. La frammentazione del sistema tributario che è stata così introdotta è andata di pari passo con la logica della frammentazione dei servizi sociali nazionali, la quale anziché controbilanciare le disparità territoriali le accentua, nonostante i correttivi poi apportati. Certo, la Costituzione assegna allo Stato la competenza esclusiva nel determinare i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere comunque garantite su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, modelli organizzativi differenti per la sanità sul territorio nazionale ostacolano nei fatti l'eguaglianza di accesso al servizio che la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale impone invece di garantire. I piani di rientro dai disavanzi e le scelte a favore del contenimento della spesa pubblica hanno inoltre orientato il sistema verso la supremazia dell'ospedale e verso il trattamento di patologie acute. Parallelamente è iniziato a crescere il peso della spesa privata per la salute. Negli anni passati si è sostenuto a piene mani che il sistema sanitario nazionale andava incontro a problemi di sostenibilità. Il sistema sanitario nazionale italiano ha consumato sempre una frazione del PIL minore rispetto a paesi noi vicini, con risultati non di meno di primissima qualità. Secondo i dati Istat del 2020, l'Italia impegna per la sanità il 6,5% del PIL, molto meno del 9,5% impiegato dalla Germania, del 9,3% impiegato dalla Francia. Siamo al dodicesimo posto nella gradatoria dei paesi dell'Unione da questo punto di vista. La maggior parte di queste risorse in Italia va all'assistenza ospedaliera. L'assistenza sul territorio è pari all'1,2% del PIL. Da questo punto di vista siamo al quindicesimo posto nell'Unione. Oggi, a un anno dall'esordio della pandemia, stiamo assistendo al ripensamento delle tendenze che hanno prevalso nell'ultimo decennio. La pandemia ha inflitto una grande lezione circa i limiti di un approccio basato più sul mercato. Nella sanità si è nuovamente riconosciuto che la medicina territoriale è un presidio fondamentale nella tutela della salute. In Italia si potrebbero evitare dalle 50.000 alle 75.000 morti l'anno, con programmi di prevenzione per il miglioramento della dieta o programmi diretti a aumentare l'attività fisica e altri programmi di natura preventiva. Il costo pro capite corrisponderebbe a circa 17 euro l'anno. Particolarmente insufficienti in Italia risultano i servizi per la cura a lungo termine, rivolti soprattutto agli anziani. Si pensi che in Italia solo 4 ultra 65 anni su 100 beneficiano di cure di questo genere, contro gli 11 in Francia e i 12 in Germania. La sostenibilità futura del diritto alla salute dipenderà anche dalla capacità del sistema di orientare la popolazione verso stili di vita più sani, con la promozione della salute, secondo i principi enunciati dalla carta di Ottawa. Possiamo dire che vi è stato troppo a lungo un marcato disimpegno politico nel conservare e migliorare quanto la generazione precedente alla nostra aveva fatto per lasciarci il sistema sanitario nazionale. Si è pensato che l'alternativa potesse essere la concorrenza sul mercato delle prestazioni sanitarie, ma qualunque studio comparato dei sistemi sanitari nazionali in realtà mostra come il predominio del mercato comporti maggiori costi, con una copertura minore della popolazione. Il caso emblematico è rappresentato dagli Stati Uniti che impegnano in spesa sanitaria ben il 17% del PIL, una percentuale delle risorse davvero enorme senza coprire tutta la popolazione statunitense. Un ultimo tema ci riconduce alla dimensione europea del diritto alla salute. Ho avuto modo di ricordare che il diritto alla salute ha una componente socio-economica di primo piano. Oggi è unanime il riconoscimento che la salute dipende anche dalla qualità dell'ambiente. A questo riguardo voglio ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per la vicenda ILVA, in quanto i provvedimenti adottati dalle autorità italiane non hanno salvaguardato la salute umana per i cittadini di Taranto. Dobbiamo ricordare che l'Italia ha proprio carico importanti violazioni in materia ambientale, dalla qualità dell'aria alle discariche abusive, censurate a livello europeo. Violazioni che segnalano la necessità di salvaguardare il diritto alla salute anche in contesti produttivi. D'altra parte, la nostra stessa Costituzione stabilisce all'articolo 41 che l'iniziativa economica può svolgersi solo in conformità all'utilità sociale, o almeno non contro di essa, o comunque in modo da non recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. E venendo ai problemi di bilancio, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare negli ultimi anni che è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. Cito testualmente. Sarà bene dare spazio alla medesima logica in materia di tutela ambientale, in relazione alla tutela della salute nell'ambiente di lavoro. Due ambiti in cui è sempre in gioco la vita e la salute umana e in cui il diritto alla salute deve essere guardato con maggiore impegno.